Ho la voce calma, regolare, senza alti né bassi, ragionevole, fluida e, se appunto un argomento, lo sviscerò da capo a fondo in tutti i suoi aspetti. Gli argomenti poi che preferisco sono quelli casalinghi. Mi piace il discorre del prezzo della roba, la disposizione dei mobili, della cucina, del termo si pone, insomma, di ogni scioghezza. A parlare di queste cose non mi stancherei mai. Ci provo tanto gusto che spesso mi accorgo che ricomincio da carne, con gli stessi ragionamenti. Ma siamo giusti, con una donna questi sono i discorsi che ci vogliono, altrimenti di che cosa si deve parlare? Grazie.